Vi andanti sulle strade del Vangelo è il programma di Padre Pio TV dedicato alle missioni e ai missionari. In onda ogni mercoledì alle 10.30 con Fra Raffaele Mangiacobi, il collegamento dal chat fra Antonio Di Mauro, che porta nelle vostre case il racconto di chi ha deciso di spendere la propria vita al servizio dell'evangelizzazione nei luoghi più remoti e perduti del pianeta. Un'occasione per conoscere storie di gioia, speranza e libertà. Vi aspettiamo!